Siamo qui per assemblare un computer di quelli old style, quindi quelli vecchissimi, e lo andremo ad assemblare da zero. Questi giorni mi sono fatto spedire componentistica e case. Mi sono fatto spedire un lettore DVD, un altro lettore ma CD, una scheda Ethernet e audio, scheda madre, CPU, RAM, hard disk, Altro hard disk, tutta questa roba andrà montata nel case, che sta lì dentro. Credo che con questo non ci farò niente diciamo. Quindi questo, proprio il supplies, bocciato. Allora il case è uno dei primi degli HP, senza alimentatore che sarebbe quello, senza scheda madre e tutto quanto. Questo è il case. Da quanto sto vedendo, il case è in ottime condizioni. Cominciamo a prendere la scheda madre e posizionarla lì. Musica 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.